Attrice e regista bolognese di adozione, nata a Rovigo, frequenta a Bologna il liceo scientifico statale Sabin, all'epoca denominato quarto liceo, e si diploma alla Scuola di Teatro di Bologna diretta da Alessandra Galante Garonè nel 1984. Dal 1984 ha lavorato come attrice di teatro con Teatro Stabile di Viterbo, Accademia Perduta Romagna Teatri, Teatro di Leo, Applauso Spettacoli, ITC Teatro, Teatro Sociale di Rovigo, Compagnia La Baracca, La Belle Epoque, Centro Teatrale Emilia Romagna, Teatro delle Pulci. È stata aiuto regista di Leo De Berardinis dal 1991 al 1998. Come attrice televisiva e cinematografica è nota al grande pubblico. Dal 2002 come interprete di Balia Bea nella trasmissione Rai Melevisione. Ha recitato un piccolo cameo nel film Natale in India nel 2003. Prima dammi un bacio regia A. Lo giudice, uno contro uno regia A. Marchesini, Fortezza Bastiani regia M. Mellara A. Rossi, Karaoke regia G. Campanini, tredici storie d'amore regia A. Lo giudice, consigli per gli acquisti regia A. Baldoni, dieci cinema regia A. Cappelletti, la certosa di Parma regia C. T.H. Torrini, che Dio ci aiuti regia F. Vicario, a un passo dal cielo regia E. Olduini, acte Golgata, R.T.L. Z.G.T. Regia Z, Spirandelli, Manaria regia P. Bianchini, R.I.S. Regia F. Tagliavini, il commissario Cogliandro regia Manetti Bross. Professione sospetto regia Sabioni, Melega. La tempesta regia Fabrizio Costa. Casta Ueile faremo sapere regia di Alessio De Leonardis. Lontana da me regia Claudio Di Biagio è stata anche protagonista di spot pubblicitari. Nel 2002 ha fondato in associazione con alcuni colleghi romagnoli la compagnia teatrale Vagamondi, che si è distinta per progetti pregiati in Italia e all'estero riguardanti la poetica di Federico. Fellini, è anche autrice di testi teatrali, favole e sceneggiature per fumetti. Nel 2014 ha inaugurato un progetto di pedagogia delle arti, nominato Casa delle Passioni, un luogo dove conoscere e sviluppare le proprie passioni.